Utilizzate il codice sconto Passione Cucina con Tony 5 per avere un ulteriore sconto costa appena con lo sconto sopra 80 euro che ne vale veramente la pena. Un altro oggetto Cecotec scontato per voi, ho parlato con l'azienda, mi hanno dato la possibilità di continuare ad utilizzare il codice sconto Passione Cucina con Tony 5 per acquistare nell'azienda Cecotec. Adesso vi presento questo robot che è molto 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 completo perché c'è lo spremiagrumi, il frullatore, il tritatutto, poi ci sono le lame sia in plastica che in ferro e ci sono questi dischi che si possono mettere, io già ne ho montato uno qua e adesso vi farò vedere come funziona per tagliare varie cose. In questo caso ho preso una zucchina e adesso vi farò vedere la funzione del disco che ho montato in questo momento. Intanto mi prendo questo perché non voglio farmi male, sentirete un po' di rumore giustamente. Ok, come avete potuto vedere, guardate che meraviglia esattamente in pochissimi secondi abbiamo tagliato delle zucchine a rondelle, adesso vi faccio vedere cambiando il disco che cosa si riesce a fare. Questo di qua lo togliamo e lo sostituiamo con questo, in questo caso togliamo questa piccola zucchina e inseriamo l'altro disco e lo andiamo a montare sul nostro... Queste li lasciamo dentro, dico, alla fine per farvi vedere materialmente come funziona. Lo prendiamo laterale da qua e lo andiamo ad inserire. Andiamo a chiudere il nostro boccale, assicuratevi che il boccale si chiude perché altrimenti non funziona. Prendiamo un'altra zucchina, prepariamo sempre il nostro attrezzino, non mettiamo le mani dentro anche se vedete è stato studiato per non... Le dita non ci arrivano, perciò dico a meno che non avete le dita di polifemo non dovreste tagliarvi, anche se mettete le dita qua dentro. Perciò adesso facciamo l'altra prova e vi faccio vedere come funziona questo. Ok, come potete vedere sempre pochissimi secondi andiamo a togliere, guardate, guardate che meraviglia ed è tutto tagliato a filetti. Adesso vi faccio vedere qualche altro attrezzino, vi faccio vedere lo spremiagrumi. Prima dello spremiagrumi volevo farvi vedere la lama per tritare, c'è una lama qui, c'è anche quella per fare tipo i patè, che è quella in plastica là. Però vi metto questa di qua in ferro, metto sempre il coperchio perché altrimenti schizza. Meno praticamente di 10 secondi abbiamo tritato la nostra carota, è spettacolare. Adesso vi faccio vedere il succo di arancia. Ci sono tanti attrezzi però io adesso vi faccio vedere giusto la spremuta d'arancia, ma anche il periodo d'arancia però diciamo quello che viene. Lo andiamo ad accendere. Pochissimi secondi, pochissimi secondi e abbiamo preparato praticamente un ottimo succo di arancia. Andiamo a versare, ma quanto è buono il succo d'arancia, ma quanto è buono, veramente buonissimo. Possiamo anche versarlo totalmente, vado a togliere la cosa e lo versiamo tutto. Che dire, utilizzate il codice sconto Passione Cucina Contoni 5, per avere un ulteriore sconto costa appena, con lo sconto sopra 80 euro, che ne vale veramente la pena. Perché per me dovrebbe costare anche molto 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 di più. Alla vostra salute. Alla vostra salute.